Nuova Banca Etruglia svolge solo un ruolo di intermediazione, così l'amministratore delegato Roberto Bertola si esprime sulla questione dei gettoni d'oro venduti dall'Istituto Aretino alla Zecca di Stato e poi assegnati dalla RAI ai vincitori di giochi a premi. Risultati da un'inchiesta di report non conformi a quanto dichiarato. Riguarda il passato ma è il nostro futuro, abbiamo parlato di futuro e la banca dell'oro è una nostra connotazione positiva che il compratore dovrà apprezzare. Noi lì siamo indubbiamente intermediari, noi compriamo da fornitori che hanno good delivery e sono i migliori del mondo e poi rivendiamo le barre punzonate e certificate e così è e deve essere. Quindi semmai è parte l'ESA anche Banca Etruglia in questo caso? E beh, l'ha detto lei, l'ha detto lei. Sulla vendita ci sono novità, si è parlato di 26 manifestazioni di interesse. Andiamo avanti, il processo non è semplice come sapete perché è un processo che ha molto di pubblico, quindi Asta, Advisor, Infomemo, manifestazioni di interesse, manifestazioni di interesse più concrete e così via. Quindi i tempi ci vogliono, noi abbiamo sempre detto entro l'estate, entro l'estate contiamo proprio di essere.